Seglia Amore, mangiti il pane, dai Ti sei calmata, amore? Il pane risolve? Seglia Ciao ragazzi, bentornati Oggi mi vedete proprio... Guardate, guardate Cioè, voi ditemi, ma lo dovevo fare questo video oppure no? E però, io so che voi mi aspettate ogni giorno, quindi... Ma è anche messo... Ops, eccomi, no? Effetto... Madonna, un secondo che stupò il... L'obiettivo Allora Come mi sono truccata? Non lo so Ragazzi Questo vlog, io lo faccio perché so che voi mi aspettate ogni giorno Ma oggi c'è Piru Piru Chiamiamolo Piru Piru Il mio bellissimo, bellissimo... Come si chiama questo qua? Piru Piru? Brufalo Che mi è spuntato E volevo farvi notare Quella cosa fitusa di mia figlia Che mi ha preso in giro Mi ha detto che aveva finito il panino Perché voleva andare da sua cugina E io le ho detto Prima finisci il panino e poi ci vai E mi ha detto L'ho finito Invece l'ho messo nascosto Ma vi sembra una cosa normale? Allora, ragazzi Oggi Giornata di pulizie Adriano oggi è alla recita Quindi adesso mi preparo E vado alla sua recita Dopodiché Niente, volevo informarvi Ma che non so Che ne so Magari qualcuno è interessato Ho messo in vendita Anzi sto per mettere in vendita su subito.it La mia aspirapolvere della Dyson Non perché non funziona Ma perché vorrei comprare La scopa elettrica della Dyson Quella senza fili Quindi una volta che si è convinto Ciccino Adesso ve la faccio anche vedere Una volta che si è convinto Ciccino Farmela mettere su subito.it Io ve la faccio vedere subito Ma adesso metterò anche L'annuncio su subito E vi faccio vedere L'aspirapolvere Eccola Praticamente questa È quella che ci siamo regalati L'anno scorso A Natale Funziona Funziona perfettamente Credo di aver conservato Lo scontrino Tranne che mio marito Come al solito L'ha buttato appena abbiamo comprato Ma non credo C'è ancora un anno di garanzia Quindi praticamente questa aspirapolvere È nuovissima È nuovissima Forse è anche arrivato E poi magari nelle info Vi lascio il link di subito Eccomi ragazzi Sono pronta per andare Sono pronta per andare alla recita di Adriano Quindi intanto vado Potete guardarlo in diretta streaming Su nowtv.it Grazie a ridere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti